Altro incontro con Giovanni Matera, titolare di Matera Arredamenti, è noto imprenditore per le sue capacità, la sua conoscenza in materia di marketing, di formazione, autore di numerosi corsi di formazione e di pubblicazioni come appunto la cassetta degli attrezzi. Abbiamo trattato in alcune puntate fa il problema della fuga dei cervelli e qui oggi si collega un altro capitoletto, i nostri giovani vanno via. Va benissimo andare via per acculturarsi e fare esperienza, ma l'importante è che come ha detto Lino Patruno nel suo libro di recente pubblicazione, l'inciso di Patruno, se i giovani del sud per andare a conoscere il mondo devono avere piedi leggeri, essenziale è che abbiano ali tornanti per il percorso inverso. In buona sostanza è bene che i nostri giovani vadano fuori, acquisiscano conoscenze, un patrimonio che magari la realtà nostrana non offre loro, con una speranza, però facciamoli ritornare. E a questo proposito Matera, proprio per indicare come l'argomento è davvero proprio tratto dalla vita quotidiana di ogni giorno, io nel mio palazzo conosco altri ragazzi, figli di altri condomini, ragazzi, me li ricordo che avevano 14-15 anni, poi 18 anni l'età della maturità, a un certo punto finisce, si diplomano e vanno fuori, studiano l'università. E non le avviesti più. A un certo punto vedo questi ragazzi, di rado sempre per le vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, un po' di bagni in estate e poi questi spariti del nulla. Dopo un 5-6 anni torno, ne incontro alcuni, io rimango ad abitare lì, in quel palazzo, quello stabile, e ciao Luigi, non neanche li riesco a riconoscere, ciao non ti ricordi di me, sono Manuel, e lei ti ricordi, ero piccolo forse, beh che fine hai fatto? Mi sono un diplomato, poi sono andato all'università, ho trovato lavoro fuori e poi a Taranto sì, torno quando capita raramente. Cioè queste persone hanno reciso il legame con il proprio passato, con le proprie radici. Però, però ora diciamocela tutta, Matera, questi dicono se io sono abituato altrove a mangiare il tartufo, a mangiare il caviale, mi diventa difficile e sarebbe autolesionistico tornare a Taranto e mangiarmi la scatoletta di tono. Allora c'è, il ragazzo va via e non torna perché è un sistema che costringe a farlo andare via. Abbiamo detto prima che è il sistema formativo che costringe questi ragazzi, perché il nostro sistema imprenditoriale, come ho detto in altre occasioni, il 95% è fatto di piccole aziende, dai 3 ai 15 dipendenti, quindi questi non possono trovare lavoro da noi, perché il sistema formativo non gli ha insegnato il saper fare, ma è solo nozioni e quindi possono trovare ospitalità e lavoro solo nelle aziende tedesche, francese, inglese, dove le aziende sono strutturate in un modo diverso, che sono dai 50 ai 100 operai. Allora quelli si possono permettere di dare uno stipendio a un esperto in marketing, un esperto in comunicazione e tutto, ma noi non possiamo. Ma c'è l'altro svolto, sta succedendo una cosa molto ingresciosa, che piano piano sta avvenendo, ma non ci stiamo rendendo conto. I nostri paesi, Taranto magari ancora, eppure forse a questo punto Luigi ti sei accorto che negli inquirini del palazzo sono rimasti solo mariti e mogli, si fanno i vecchietti e rimangono soli. Ma ecco sì. Nei nostri paesi, tipo la terza, Ginosa, Castellanetti, intorno ai 15 mila abitanti, sta succedendo la stessa cosa. Nei paesi da 5 mila abitanti, è già successo, se vai in quei paesi trovi soltanto i vecchietti, mariti e mogli, i quali figli oramai da tempo sono partiti tutti. Si, si ha la desertificazione. Sta succedendo questo, che piano piano, piano piano, non ce ne stiamo accorgendo, ma quando vai a puntualizzare questo fatto qua, vedi, ti comincia a rimanere l'amare in bocca di quello che sta succedendo. Ma io ripeto, l'ho notato proprio con amarezza. Allora, immaginiamo se all'interno della scuola c'era anche quella scintilla all'imprenditoria, non dico assai, ma un 5-10% di questi ragazzi li potevamo salvare, li potevano rimanere da noi, perché ci sono tante opportunità. Non a caso io i corsi formativi che faccio sono studiati in modo tale che prima la persona, i miei corsi sono basati prima sulla persona, prima ancora che l'imprenditore, in modo che l'imprenditore possa accogliere le opportunità. Allora, l'unico consiglio che mi sento di dare a tutti i nostri ragazzi che stanno già, ma già dalle scuole medie, ma diciamo dalle scuole medie superiori, visto che la scuola fino a quando non si deciderà a dare anche il saper fare, cercate di partecipare ai corsi come quelli che faccio io, ma a tanti altri formaturi sul mercato che stanno anche gratuitamente, cercate di partecipare a questi corsi fuori dall'ambito scolastico, in modo che quando vi sarete laureati avrete questo tipo di conoscenza presa fuori dal sistema scolastico che potrebbe servire, non dico a rimanere in Italia, ma a difendervi ancora meglio, sia che un domani farete l'imprenditore, sia che farete il dipendente all'interno, il collaboratore all'interno di un'azienda. Vi invito a partecipare, ma oggi anche su internet, l'importante è capire che la formazione è importante, oggi si può formare anche attraverso il web, di tutto e di più, anche a costo zero, ma anche quando noi facciamo questi corsi, cercate di partecipare fuori dall'abito scolastico. Mettetecela tutta!